Stasera continueremo sul risveglio, dillo risveglio. Quindi dichiara quello che ci insegna la sua parola, che tu sei quello che Dio ha detto che tu sei, dillo io sono quello che Dio ha detto che io sono, io non sono quello che io penso che io sono, ma quello che Dio ha detto che sono, posso fare tutto quello che Dio ha detto che posso fare, uno ci crede il resto? Ci siete? Carburiamo? Posso fare tutto quello che Dio ha detto che io posso fare? Sto uscendo fuori dalla mia prova, sto uscendo fuori dal mio deserto, perché Dio è con me, quello di cui ho bisogno è di Lui, Dichiaralo. Quello di cui io ho bisogno è di Lui, nel nome di Gesù. Quindi se stasera sei nel posto per essere scosso, ti trovi nel posto giusto. Amen. Sei pronto per ricevere il tuo miracolo? Sei pronto per ricevere una rottura nella tua vita? Alleluia. Quindi Dio vuole portarci, lui ha nel suo cuore di portarti in luoghi dove non sei ancora mai stato. La Bibbia ci dice una cosa straordinaria, le cose che non sono salite nel cuore d'uomo, che occhio non ha visto, che orecchio non ha udito, sono le cose che Dio ha preparati per quelli che lo servono, o per i suoi figli. Quanti figli ci sono qui? Dillo, Dio ha preparato cose per la mia vita, che ancora occhio non ha visto, che ancora orecchio non ha udito, che non sono mai salite nel cuore d'uomo, Dio le ha preparate per me perché io sono suo figlio. Amen. Quindi stasera voglio chiedervi di predicare insieme con me. Non rimanete lì come delle belle statuine. Siate partecipi. Amen. Quindi sei pronto per andare dove lui vuole portarti? Dove non sei mai stato? Sei pronto per fare quello che non hai fatto fino a questo momento? Sei pronto per vedere quello che lui ha preparato per la tua vita? Sei pronto per sperimentare Dio come non l'ha mai fatto prima nella tua vita? O pensi che è tutto qui? O pensi che è tutto finito? O beh sei arrivato al massimo, non c'è più niente. Se queste sono le tue aspettative, quello sarà quello che riceverai. Ma sappiate una cosa, c'è molto di più. Dillo c'è molto di più. Preparato per la mia vita. Oggi ho un appuntamento con Dio. Amen. E in questi giorni vi ho condiviso sul libro di Ageo, quelle che sono gli eventi degli ultimi tempi. E soprattutto quello che è l'ordine divino per quanto riguarda il ciclo, l'ultimo ciclo. Vi ricordate? Ma leggiamolo insieme perché vedo che ci siete proprio convinti. Fino a convincere anche me. Ageo 269. Poiché così dice l'eterno degli eserciti. Dillo l'eterno degli eserciti. Ancora una volta fra pochi io farò tremare i cieli e la terra. Il mare è la terra asciutta. Farò tremare tutte le nazioni. Il desiderio di tutte le nazioni verrà e io riempirò questo tempio di gloria. Amen. Chi lo dice? L'eterno degli eserciti. Verso 8. Mio è l'argento, mio è l'oro, dice l'eterno degli eserciti. La tua economia non dipende dalla terra ma dipende da Dio. Verso 9. La gloria di quest'ultimo tempio. Amen. Che siamo noi cari. Che è la chiesa di Cristo. La gloria di quest'ultimo tempio sarà più grande di quella del precedente. Dice l'eterno degli eserciti. In questo luogo io darò la pace dice l'eterno degli eserciti. Cosa impariamo da Ageo? Che ci sono cinque cose importanti che dobbiamo comprendere nella nostra vita. La prima cosa è come se è una mappa. Ci dice dove siamo arrivati e dove stiamo andando. La prima cosa tempo di scuotimento. Per tutte le cose. Il cielo, la terra, le famiglie, i ministeri, le persone. C'è uno scuotimento mondiale e ci siamo dentro a questa situazione. Amen. Ma contemporaneamente a questo la seconda cosa c'è il versamento dello Spirito Santo. Il più grande risveglio che la chiesa e che la terra abbia mai sperimentato e vissuto. C'è qualcuno che si entusiasma qui? Alleluia. Poi la terza cosa la grande raccolta degli ultimi tempi. Migliaia e migliaia e milioni di anime saranno raccolte. La quinta cosa, la quarta cosa la gloria nella chiesa. E la quinta cosa la seconda venuta di Gesù. Rapimento è seconda venuta. Amen. Quindi nel libro di Ageo ci testimonia di questa potente, gloriosa e meravigliosa realtà. E stasera vedremo la vita di un uomo che ne ha passate nella sua vita. C'è stato un momento di grande confusione dove ha perso di vista determinate cose nella sua vita ma ad un certo punto della sua vita ha avuto un incontro soprannaturale con la presenza di Dio e le cose sono cambiate. Ora quando parliamo di un incontro non ci riferiamo semplicemente all'incontro che tanti di voi avete avuto. Sapete perché non è un'esperienza una sola volta nella vita ma è qualcosa che Dio vuole che noi sperimentiamo costantemente e continuamente. Amen. Quest'uomo si chiama Mosè. Mosè ha vissuto 120 anni. Sapete la sua vita viene divisa in tre parti. I primi 40 anni nella carne. I successivi 40 anni da 40 a 80 anni nell'anima. E i successivi 40 anni da 80 a 120 anni nello spirito. Anima. Carne. Anima e spirito. Questa è stata la sua crescita. E in Esodo nel capitolo 3 il verso 1 c'è qualcosa che ci deve far riflettere perché è qualcosa che non soltanto Dio ha voluto avere con Mosè lui l'ha chiamato sicuramente per quel tempo e per operare una grande liberazione nel popolo di Israele. Ma lì oggi sta chiamando me e te. Ci sei? A portare liberazione ai perduti. A liberare quelli che sono oppressi. E quindi nel verso 1 Esodo capitolo 3 or Mosè pascolava il greggio dietro suo suocero. Cosa faceva Mosè a 80 anni? Era un pastore di greggie, di pecore e non era nemmeno il suo. Era di suo suocero. Dietro suo suocero, sacerdote di Madian. Egli portò il greggio oltre il deserto. Un giorno perché non lo sapeva nemmeno lui ma per una spinta interiore ha portato il greggio oltre il deserto e giunse alla montagna di Dio. Dillo Oreb. Dichiaralo stasera. Ho attraversato il deserto e sto giungendo, arrivando alla montagna di Dio. Alla presenza di Dio. Amen. Ad un certo punto succede qualcosa nella vita di Mosè. Qualcosa che ci deve far riflettere. Qualcosa che dicevo prima riguarda la nostra vita. Riguarda quello che Dio sta preparando per il nostro mondo. Non soltanto per la nostra nazione. È anche per la nostra nazione. Non soltanto per la nostra città. È anche per la nostra città. Ma è qualcosa che riguarda tutto il mondo. Come dicevo prima, il più grande risveglio della storia della Chiesa è che il mondo abbia mai visto sta iniziando a succedere. Abbiamo imparato in questi giorni dove inizia il risveglio. Nel cuore. Quando tu metti fuori l'amarezza, rancore, risentimento, ferite, oppressioni, delusioni, lì può entrare Dio. Tu sei la dimora dello Spirito Santo. Dio vive dentro di te. Il posto migliore di tutta la faccia della terra dove Dio ha scelto per dimora sei tu. È il tuo cuore. È la tua vita. Amen. Quindi dicevamo il più grande risveglio che la terra abbia mai visto. Questo non significa che non abbiamo vissuto o non stiamo vivendo nel risveglio. Ma sapete le cose con Dio si fanno sempre, vanno sempre crescente. Si cresce di fede in fede. Si va di gloria in gloria. Si va dall'incredulità alla presenza. Io non so quanti di voi vi siete rassegnati a vivere la vita che avete vissuto o che state vivendo o state pensando che c'è qualcosa di meglio che Dio ha preparato per la vostra vita. Quanti lo state credendo? E inizia a dichiararlo. Dio ha preparato qualcosa di meglio per la mia vita. Lui mi sta portando di fede in fede. Mi sta portando di gloria in gloria. Mi sta portando da un luogo di incredulità alla sua meravigliosa presenza. Amen. Sapete che significa che Dio ci sta introducendo nella Cobat? Che è la gloria. Che è la sua presenza. Il luogo più alto della sua presenza. Non finiremo mai di conoscere Dio. Amen. Quando Gesù disse questa è la vita eterna conoscere te il solo unico vero Dio e Gesù Cristo che tu hai mandato parla di una rivelazione progressiva di chi Dio è. Non è semplicemente una persona che ti presenti e gli dici piacere mi chiamo puntini puntini. Tu chi sei? E quindi lo conosci. Ma c'è una rivelazione continua che ogni giorno vuole crescere nella tua vita. Perciò quello che tu hai sperimentato fino a questo momento è soltanto una bricciola di quello che Dio vuole fare nella tua vita e attraverso di te. Ma è bisogno di avere un incontro soprannaturale con la sua presenza. Amen. Perciò questa sera è un appuntamento con Dio. Perciò questa sera Dio ha un appuntamento con te. E ringrazio a Dio che hai risposto a questo appuntamento. Perché ti trovi nel posto giusto per ricevere una parola dal cielo per la tua vita. Amen. Perché Dio ti porterà laddove non sei mai stato prima. Sei pronto ad arrivarci? Perché farai quello che prima non hai mai fatto. Amen. Per quale motivo? Perché sei il seme di Abramo. Sei il seme del padre spirituale Abramo. Colui che vive per fede, che ha vissuto per fede. E noi siamo quel seme di quella parte. Quindi ringrazio a Dio stasera perché stanno iniziando miracoli, prodigi e soprannaturale attraverso la tua vita. Stasera hai bisogno di scuotere la tua vita. Devi scuoterti dal posto dove stai e vedere quello che Dio ha preparato per te. Non restare indifferente. Non essere apatico. Non essere superficiale. Segui la linea di Dio e la guida di Dio nella tua vita. Amen. Mosè pascolava il greggio dietro suo suocero, sacerdote di Madian. Egli portò il greggio oltre il deserto, dillo oltre il deserto. E giunse alla montagna di Dio. E l'angelo dell'eterno gli apparve in una fiamma di fuoco di mezzo a un roveto. Mosè guardò ed ecco il roveto bruciava col fuoco. Ma il roveto non si consumava. Oggi è il momento, stasera è il tempo, che tu hai un incontro con il fuoco di Dio. Con la presenza di Dio. Amen. Stasera è il momento che tu decidi di voler entrare nel risveglio. Stasera è il momento che tu decidi di voler partecipare al più grande movimento di Dio sulla faccia della terra. Dopo vedremo e approfondiremo questo verso. Il 2. Il 3 dice, allora Mosè disse, ora mi sposterò per vedere questo grandioso spettacolo, dillo grandioso spettacolo. Perché mai il roveto non si consuma. Ora l'eterno vide che egli si era spostato per vedere Dio lo chiamò di mezzo al roveto e gli disse, Mosè! Mosè! E gli rispose, eccomi. Cosa ha risposto Mosè a quel richiamo? Ha dato la sua piena disponibilità. Dio sta facendo una domanda a te proprio in questo momento. A questo punto dove sei arrivato, hai deciso, lui ha deciso di volersi usare di te. Dio sta dicendo voglio usarmi di te, figlio di Dio. Voglio usarmi di te, figlia di Dio. Amen! Ti stai rendendo disponibile? Perché forse stai pensando ma io non sono capace. Io non so parlare. Io non ho le qualità per fare determinate cose. Ma Dio non ti sta chiedendo le tue abilità. Dio non la sta mettendo sulla base delle tue capacità. Ma Dio la sta mettendo sulla base della tua disponibilità. Dio ti sta dicendo sei disponibile affinché io ti usi. Non ti sto chiedendo se tu che sei capace o non sei capace perché io ti renderò capace. Ma quello che io ricerco, Dio ti sta dicendo, dalla tua vita è la tua piena disponibilità. Cosa rispose Mosè al Signore? Eccomi! Cosa rispondi tu al Signore? Cosa significa? Sono completamente disponibile a fare la tua volontà, a seguire la tua volontà, a seguire il tuo proposito per la mia vita. Eccomi! Verso 5. Dio disse non avvicinarti qui. Togliti i calzari dai piedi perché il luogo sul quale stai è suolo santo. Amen! Dillo questo luogo è un luogo santo perché la presenza del santo dei santo è qui. Perciò tu avrai una visitazione con la presenza di Dio. Perciò ci sarà un rinnovamento potente se tu lo vorrai perché Dio ti trasformerà e ti cambierà. Questo per te è un tempo di refrigerio. Amen! Sicuramente stai pensando ai tuoi problemi. Forse sei pieno di problemi ma Dio ti sta dando una buona notizia. Lo vuoi fare un atto profetico? Saluta i tuoi problemi perché quei problemi che ci sono stati fino adesso non li vedrai più. Amen! Dichiarano nel nome di Gesù perché quei problemi non ci saranno più nella tua vita. Ci saranno nuove sfide, ci saranno nuove conquiste ma tu non devi girare sempre attorno e alle solite cose. Quindi dì addio ai tuoi vecchi problemi. Amen! Quindi sii forte e coraggioso. Non ti nascondere. Non avere paura. Sii forte e coraggioso. Lo sai perché il diavolo ti combatte? Non per dove ti trovi ma per dove Dio ti sta portando. Non so se l'hai afferrato. Dio ti sta portando in qualcosa di glorioso. Lui non ti combatte per quello che stai vivendo adesso ma per dove Dio ti vuole portare. Per quello che Lui ha preparato per la tua vita. Quindi cercherà di poterti ostacolare in quella che è l'opera di Dio ma stasera devi prendere coscienza e non glielo devi permettere. Nel nome di Gesù. Dillo io non glielo permetterò. Perché io so dove sto andando. Perché io so dove sto andando. Amen! Quanti siete pronti per fare quello che Dio vi dirà di fare? Quanti siete pronti per ricevere una fresca unzione nella vostra vita? Un'unzione sovrannaturale potente da parte del cielo che viene impartita nel vostro cuore? Quanti siete pronti per andare dove Dio vi vuole portare? Dillo Signore sono pronto. Nel nome di Gesù. Si è stato creato in un modo meraviglioso. Si è stato creato un po' inferiore a Dio al di sopra degli angeli. Dio ti ha fatto in un modo stupendo, straordinario e meraviglioso. Siamo stati creati per essere degli adoratori. Siamo stati creati per lodare il nostro Re. Per adorare il nostro Signore. Il nostro Dio. L'iddio dei miracoli, cari, stasera è qui. L'iddio del sovrannaturale, stasera è qui. L'iddio che sposta le montagne, stasera è qui. L'iddio che fa cadere i muri, stasera è qui. Sì, per portare liberazione e ristoro nella tua vita. Amen. Dillo stasera. Dove sto andando? È un posto migliore di dove mi trovo adesso. Questo è quello che ha vissuto Mosè nella sua vita. C'è stato un travaglio. C'è stato un combattimento. Ad un certo punto Mosè non ci credeva più. Ha 80 anni. C'è a 80 anni non vai in pensione. Stai per morire. Già sei andato forse, forse, qualche anno prima in pensione. Le persone a 80 anni aspettano la morte. Quindi voi immaginate quello che si è creato nella mente di Mosè. Rilaggiamo il verso 5. Dio disse non avvicinarti qui. Togliti i sandali dai piedi. Perché il luogo sul quale stai è luogo santo. Amen. Perché c'è la presenza del re. Del Signore. È il re dei re. Andiamo al verso 10. Or dunque vieni e io ti manderò. Dove Dio lo ha mandato. Dal faraone. Perché tu faccia uscire il mio popolo, i miei figli dall'Egitto. Dio ti sta dicendo stasera. Vieni e io ti manderò. A liberare il mio popolo dalla paura. A liberare il mio popolo dalla depressione. A liberare il mio popolo dallo scoraggiamento. A liberare il mio popolo dal buio. Vieni io ti sto mandando. Dillo sto uscendo dal deserto. E sto entrando nel palazzo. In quello che Dio ha preparato per la mia vita. Verso 11. Ma Mosè disse a Dio. Chi sono io per andare dal faraone. E per fare uscire i figli di Israele dall'Egitto. Cari Dio non sta chiedendo la tua abilità. Nella stessa maniera come non la stava chiedendo a Mosè. Ma stava chiedendo la sua disponibilità. Amen. Ora ci sono delle cose cari che precedono il risveglio. E che stasera vogliamo vedere una di queste cose nella nostra vita. Abbiamo detto che abbiamo bisogno di svuotarci di noi e di riempirci di Lui. E cari non lo devi fare soltanto una volta. O l'hai fatto in questa settimana e quindi a posto. Ogni giorno devi essere consapevole che non devi essere pieno di te ma pieno di Lui. Hai bisogno di svoiarti di te ed essere pieno di Lui. Amen. Non permettere alle circostanze che hai vinto di continuare a bloccare e a paralizzare la tua vita. Non permettere all'amarezza. Non permettere al risentimento. Non permettere alle ferite. Non permettere alla delusione di continuare a paralizzare e a bloccare la tua vita. Permetti a Dio di poterti usare. Voglio dirvi una cosa tra di noi che nessuno ci sente. Siamo in diretta. Quando voi incontrate quelli che vi parlano sempre delle cose che sono successe. E vi parlano sempre male delle persone. E vi parlano sempre male dei fratelli. Fuita. Ve la gite in ebraico. Fuggite. Perché Dio ha un proposito meraviglioso per te. E non puoi permettere a quella contaminazione di paralizzare e bloccare la tua vita. Si sono bloccati e fermati nel loro passato. Ma per te non sarà così. Dillo per me non sarà così. Io non rimarrò bloccato e paralizzato nel mio passato. C'è un proposito divino per la mia vita. Lo raggiungerò. Quindi scuotiti. Quando quelli ti vogliono mettere oppressioni addosso. E vogliono fare tra virgolette quelli che conoscono e sanno le cose. Scappa via. Inizia a vedere le cose sotto l'ottica divina. Non permettere al tuo cuore di essere di nuovo contaminato. Amareggiato. Offeso. Permetti allo Spirito Santo di guidarti nella sua verità. Perché la sua verità è l'unica verità che ti rende liberi. Cari c'è un'urgenza. Dillo c'è un'urgenza oggi. C'è un tempo di urgenza nella mia vita. E io devo rispondere a questa urgenza. Il tempo che abbiamo da vivere sulla terra. Che staremo qui ancora poco. Io non mi posso bloccare. Io non mi posso paralizzare intorno a determinate cose. Amen. Voglio mostrarvi una cosa. La differenza tra quello che è il momento e la differenza tra quello che è il movimento. Tutti vogliono un momento. Ma pochi cercano un movimento. Io non so da quale parte tu stai. Perché un momento ha che cosa a che fare con quello che vivi in quel momento. Adesso sei arrivato. Sei emozionato. Sei stato toccato nelle tue emozioni. Ma poi va via. Un movimento invece ti cambia la vita. Un movimento invece non ti lascia più come sei. Il movimento di Dio nella tua vita. Vuoi solo un'emozione del momento? O vuoi qualcosa di più? Perché Dio ha preparato qualcosa di più per la tua vita. Amen. Avere un movimento significa che esso arriva e poi va via. Avere un movimento significa che la tua vita sarà trasformata. Amen. Avere un movimento significa muoversi da una posizione. Muoversi da una condizione ad un'altra condizione. Da una posizione ad un'altra posizione. Muoversi dalla morte alla vita. Passare questo risveglio. Passare da dove? Dalla morte alla vita. Dillo risveglio è? Passare dalla morte alla vita. Stasera Dio sta chiamandogli Lazzari. Lazzaro vieni fuori. Non rimanere nella tua tomba. Non rimanere nelle tue oppressioni. Non rimanere nelle tue situazioni. Lazzaro. Lazzara. Vieni fuori. Amen. Cosa successe a Lazzaro? Dio diede una parola. Scioglietelo. Togliti i vestiti del passato. Togliti i vestiti del tuo passato. Perché i vestiti del tuo passato non ti permettono di vedere il tuo presente e il tuo futuro. Dillo togliti i vestiti del passato. Togliti i vestiti del passato. Amen. Dichiarano stasera. Io sono quello che Dio dice che io sono. Posso fare quello che Dio dice che io posso fare. Ti trovi nel tempo della liberazione per la tua casa. Ti trovi nel tempo e nel momento del tuo miracolo. Ti trovi nel tempo delle risposte alle promesse di Dio per la tua vita. Per il tuo lavoro. Per la tua famiglia. Per i tuoi figli. Per i tuoi genitori. Tutto quello che Dio ha detto a te. Lui ha detto adesso è il tempo che tu devi riceverlo. Dillo lo ricevo nel nome di Gesù. cosa precede è un risveglio un incontro personale con la presenza di Dio con il fuoco di Dio dillo con il fuoco di Dio Mosè arriva ad un certo punto ed ha un incontro divino così sarà lo stesso per te ad un certo punto della sua vita lui incontra Dio nella sua vita e cose cambiano Mosè incontra Dio e lo incontra in un tempo particolare della sua vita e proprio in quel tempo Dio gli dà un incontro con la sua presenza nel momento in cui lui aveva detto ci rinuncio non c'è più speranza non posso più fare nulla ormai sono passati 80 anni della mia vita cosa fa Dio con Mosè? la prima cosa che lui fa lo porta in una posizione che lui può ascoltare il cielo questo è quello che Dio vuole fare con te portarti in una posizione dove tu inizierai ad ascoltare Dio dove tu inizierai ad ascoltare il cielo nella tua vita succederà anche per noi ho detto alcune volte ascoltatemi questo è importante Dio ti mette in una posizione Dio ti mette in una situazione dove sei vulnerabile sapete perché lo fa? perché tu puoi imparare ad ascoltare la sua voce dove tu puoi imparare a dipendere dalla sua meravigliosa presenza una posizione vulnerabile tante volte siamo così distratti da tante situazioni che ad un certo punto cosa deve fare Dio? deve attirare la tua attenzione preso da tante cose e soprattutto le cose dell'ultimo anno perché dovunque vai perché qualsiasi cosa ascolti ascolti sempre covid ascolti sempre morte ascolti sempre malati ascolti sempre zona rossa zona gialla zona bianca zona verde zona arancione e Dio a un certo punto per prendere la tua attenzione deve fare qualcosa per dirti questo non è quello che ho preparato per te io ho qualcosa di straordinario e meraviglioso preparato per la tua vita e deve catturare la tua attenzione questo fu quello che successe a Mosè in quel tempo Israele era pronto per ricevere la sua visitazione così cari per oggi il mondo è pronto per ricevere liberazione per ricevere una parola che gli dia speranza che gli trasmette vita Israele in quel tempo era in una condizione di schiavitù era dominato da un principato questo principato era il dittatore in Egitto che si chiamava Faraone cosa faceva il Faraone dominava su tutte le loro decisioni non potevano fare quello che loro volevano fare addirittura volevano andare a servire Dio volevano offrire un ringraziamento a Dio non in Egitto fuori e sapete quanti ostacoli Mosè poi ha incontrato c'è un principato che domina sulle nostre decisioni e che tu hai bisogno di liberarti non devi permettere a nessuna circostanza di dominare sulle tue decisioni ma continuare a fare quello che Dio ci ha detto di fare cosa ci ha detto Dio di fare di predicare la parola ad ogni creatura lì Dio di ogni speranza vive dentro di te tu sei un portatore di speranza tu sei un portatore di vita non puoi essere paralizzato non puoi essere bloccato Dio in quest'anno non si è preso una pausa Dio sta continuando a compiere la sua opera Dio sta continuando a salvare Dio sta continuando a liberare Dio sta continuando a guarire Dio sta continuando a compiere miracoli ma tanti cristiani sapete cosa hanno fatto si sono presi una pausa si sono messi in stand by si sono bloccati che fai sto aspettando che passi tutto non è la giusta posizione che Dio ti sta chiamando a vivere perché tutto non passerà ma tu devi continuare a servire il re amen Israele aveva un patto di diritto e su questo patto di diritto che aveva con Dio non poteva essere dominato per sempre tu hai un patto di diritto tu sei figlio tu sei figlia centrato nel patto che Cristo ha compiuto e quel patto ti dice che tu non sarai schiavo per sempre che i tuoi nemici non domineranno per sempre nella tua vita almeno che tu non lo vuoi ma tu c'è un patto per essere liberato da qualsiasi forma di oppressione da qualsiasi forma di paura tanti si sono rintanati a casa e vivono nella paura ma è per modo di dire che si sono rintanati a casa perché fanno tutto quello che devono fare vanno al lavoro vanno al centro commerciale vanno a fare le compre ma non vanno più in chiesa tu sei un figlio che ha un patto di diritto con Dio devi reclamare il tuo patto questo patto Israele fu quello che Dio fece con Abramo ascoltate leggiamo da atti ma l'ho trovata anche in Genesi nel capitolo 15 in atti capitolo 7 Dio parlò così che la sua generazione la sua progeniti morerebbe come forestieri in un paeso estraneo e che là sarebbero tenuti in schiavitù e maltrattati per 400 anni ma Dio aggiunse dillo Dio aggiunse io giudicarò la nazione alla quale avete servito e dopo ciò essi uscirono e mi serviranno in questo luogo verso 8 poi gli disse gli diede loro il patto della circoncisione e Abramo generò Isacco e lo circoncise nell'ottavo giorno Isacco generò Giacobbe Giacobbe i dodici patriarchi tu hai un patto di diritto cosa aveva detto Dio voi rimarrete schiavi per 400 anni ma poi io vi manderò un liberatore questo liberatore vi libererà dalla vostra schiavitù perché voi avete un patto con me dillo perché io ho un patto con lui e io prego cari e spero che in questo periodo non ti sei distratto io spero e prego che non sei entrato nella paura in questo tempo io spero e prego che in questo periodo non sei entrato nella lamentela 400 anni di schiavitù per Israele in Egitto 40 anni nel deserto e tu solo per un anno cosa hai fatto con la tua vita con le tue parole con le tue azioni Dio promise io vi manderò un liberatore un profeta che avrebbe portato libertà e liberazione al mio popolo quando Dio suscita un uomo e in questo caso si chiamava Mosè sapete cosa fa? lo mandò per liberare il suo popolo Amen Dillo Dio mi sta mandando per la raccolta degli ultimi tempi per portare le persone la gente i giovani gli anziani gli adulti uomini e donne ai piedi di Gesù gli adolescenti ai piedi di Gesù per essere uno strumento di liberazione per questo mondo che vive nella schiavitù e nell'oppressione per riconoscere per accordarmi con che cosa? con il movimento di Dio di trasformazione e di cambiamento qual è quindi il primo requisito del risveglio? avere un incontro personale con la presenza di Dio dove avvenne l'incontro di Mosè in che tempo Mosè incontrò Dio abbiamo letto nella parte finale del deserto Dio Dio ha una buona notizia per te stasera tu sei nella parte finale del deserto tu sei nella parte finale del tuo deserto a volte noi guardiamo il deserto come qualcosa di negativo ma nulla ti preparerà e ti prepara come il deserto ecco per questo motivo il deserto è il miglior luogo anche se tu vivi nella solitudine ma è il miglior luogo dove puoi essere formato e preparato Gesù prima di iniziare il suo ministerio pubblico è stato 40 giorni nel deserto digiunando senza mangiare senza bere il deserto non lo puoi evitare ma il deserto non è un luogo di sconfitta è un luogo dove tu sperimenterai la vittoria e la tua fede verrà fortificata ci sarà un grande insegnamento per la tua vita dove quando attraverso il deserto ecco perché il deserto è il posto migliore anche se è un luogo di solitudine anche se ti sembra che la tua vita sta per finire questo è quello che Mosè ha vissuto ormai l'unica cosa che mi spetta è morire per me non c'è più speranza anche se ti può sembrare che Dio ti abbia abbandonato stasera Dio nel deserto ti sta incontrando nella parte finale del suo deserto del suo deserto Mosè cosa fa a un incontro con Dio Amen Dio era pronto per liberare Israele Dio è pronto per liberare questa città Dio è pronto per liberare questo mondo ma lì doveva preparare Mosè affinché Mosè fosse pronto per adempiere la sua volontà Dio è pronto Dio sta preparando te se voi leggete il capitolo 1 dell'Esodo il capitolo 2 dell'Esodo Mosè non era pronto una persona schiava non può liberare i prigionieri ci doveva essere prima un processo di liberazione e di guarigione nella sua vita nel capitolo 1 e capitolo 2 la parte conclusiva del capitolo 2 quindi nei primi 40 anni di Mosè li percepisce che nella sua vita c'è un proposito divino quanti di noi abbiamo percepito che c'è un proposito di Dio nella nostra vita cosa fece Mosè vede il popolo che era tenuto in schiavitù e si comincia a muovere e si muove nel modo sbagliato uccide un egiziano ma il motivo sapete perché? perché lui non poteva fare niente perché lui stesso era schiavo ed essendo schiavo non poteva portare liberazione per questo motivo Mosè attraversa il suo deserto i suoi quarant'anni di deserto c'è una buona notizia perché non saranno quarant'anni tu stai alla fine del tuo deserto dillo io sto alla fine del mio deserto alla fine del deserto di Mosè fu pronto per essere liberato per essere il liberatore del popolo di Dio non puoi liberare le persone se tu vivi in schiavitù cosa ha detto Gesù? se dunque il figliolo vi farà liberi voi sarete veramente liberi nel libro di Daniele nel capitolo 11 il verso 32 il popolo di quelli che conoscono il loro Dio quanti conoscete il vostro Dio? e Dio sta dicendo il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà stasera non è un momento semplicemente di ricevere un po' di emotività un po' di emozioni Dio ti sta dicendo c'è la conclusione del tuo deserto ma tu ne devi essere cosciente tu ne devi essere consapevole e tu devi sapere che la prova sta finendo quello che in questo tempo ti ha tenuto legato incatenato sta finendo Dio sta portando liberazione per essere un liberatore Daniele dice quelli che conoscono il loro Dio mostreranno fermezza e agiranno quelli che conoscono Dio faranno le stesse opere che ha fatto Gesù mostrando che cosa fermezza e azione e agire su quello che Dio ha detto Amen solo nel capitolo 3 nel verso 3 e nel verso 4 Mosè diventa un liberatore dopo aver avuto che cosa un incontro con Dio fu la prima volta che Mosè ebbe un incontro con Dio fu la prima volta che si trovò nel posto giusto che si trovò nell'ora giusta per ascoltare Dio per ascoltare il cielo questo è quello che sta succedendo nella tua vita figlio e figlia di Dio quando ci state credendo dillo questo è quello che sta succedendo nella mia vita Dio mi sta portando in una posizione dove io posso iniziare ad ascoltare Lui nella mia vita Dio mi sta riposizionando per diventare un liberatore Dio sta accelerando la visione Dio sta accelerando i tuoi desideri Dio sta accelerando i tuoi sogni Dio sta accelerando le parole profetiche che sono state rilasciate nella tua vita esse si compiranno nella tua vita per questo motivo tu ti trovi nella giusta stagione come oggi Dio Dio ti sta dicendo quell'attacco che hai passato quella situazione che hai vissuto non ti ha portato alla fine Amen perché la maledizione sarà distrutta perché il tempo del risveglio il tempo della raccolta sta arrivando Dillo sta arrivando in questo tempo di deserto Dio ti sta dicendo io ti ho tenuto in vita in questo tempo di deserto non sei uscito pazzo tanti sono usciti fuori di testa tanti sono usciti pazzi ma tu sei stato preservato Dio ti sta dicendo io ho avuto i miei occhi su di te ed oggi ti trovi nella giusta posizione per avere un incontro con me quanti bramati un incontro con Dio quanti bramati un incontro con la sua presenza perché tu sei pronto ad avere un incontro con Dio perché tu sei pronto a ricevere risposta alle tue intercessioni e alle tue preghiere perché tu sei pronto a ricevere che cosa quelle parole che sono state rilasciate nella tua vita lì c'era un roveto che bruciava ma non si consumava tu sei pronto a bruciare di passione sei pronto per la raccolta finale la prima cosa che Mosè comprende che tu e Dio abbiamo bisogno di capire sapete quale fu che lui aveva bisogno di essere liberato lo Spirito Santo ti può liberare il sangue di Gesù ti protegge Amen forse ti sei realizzato nella tua famiglia ti sei realizzato nel tuo lavoro ma ti stai perdendo la parte migliore qual è la parte migliore avere un incontro soprannaturale con la presenza di Dio che stasera tu hai bisogno di avere e non devi trascurare la prima cosa che successe a Mosè cosa fu un incontro con il fuoco di Dio dove si trovava Mosè in quel tempo nella parte finale del suo deserto cosa successe ebbe un incontro con Dio e l'angelo dell'Eterno gli apparve in una fiamma di fuoco di mezzo a un roveto a un roveto Mosè guardò ed ecco il roveto bruciava col fuoco ma il roveto non si consumava Mosè vede il fuoco sul roveto ma questo roveto non si consuma lui rimane sconvolto viene attratto si avvicina e dice voglio vedere questo spettacolo meraviglioso e il meraviglioso spettacolo non era che all'improvviso un roveto un albero prendesse fuoco era normale nel deserto in quel tempo era normale per il caldo che c'era in determinate ore della giornata era la cosa più normale ma cosa attrasse la presenza di Mosè che bruciava ma non si consumava che bruciava ma non si consumava Dio ti sta parlando in questo momento e ti sta dicendo questo non essere più vittima del tuo passato tante persone vivono come vittime facendo le sceneggiate napoletane piangeamo falsamente ipocritamente basta con le sceneggiate Dio ti sta dicendo non essere più vittima del tuo passato togliti il tuo vecchio vestito perché il vecchio vestito non ti fa vedere il tuo presente e il tuo futuro quello che Dio ha preparato ora per te è quello che Dio vuole fare attraverso di te Amen Ascoltami non permettere più al tuo passato di bloccarti nel farti vedere il tuo futuro Dio è pronto per incontrarti con il suo fuoco quel roveto bruciava ma non si consumava Mosè disse che straordinario un miracolo non riusciva a capirlo con la sua mente razionale con la sua mente umana come mai un roveto bruciava ma non si consumava cosa fa Mosè viene attirato si avvicina si avvicina si avvicina al roveto sapete che succede? il roveto inizia a parlare e gli dice io sono colui che sono e gli dice Mosè io ho deciso di usare te e questo è quello che stasera Dio sta dicendo a te lui si sta rivelando per chi lui è lui è l'io sono l'onipotente l'autosufficiente non è bisogno di altro se non di lui io sono colui che sono l'io sono ha deciso di usarsi di te quanti potete dire sì signore stasera io lo afferro nel mio spirito è nella mia vita ora cosa succede tre cose Dio insegna a Mosè attraverso quel roveto la prima cosa che gli insegna sapete che cosa è? come ascoltare la sua voce ricordate la prima voce è quella di Dio e stasera Dio ti sta parlando e quello che succederà quando uscirai da questo luogo è la seconda voce che verrà perché cercherà di scoraggiarti perciò Mosè impara ad ascoltare Dio perché il primo miracolo che Mosè quando va in Egitto compie tutto il popolo di Israele non solo gli egiziani gli va contro e se lui non avesse avuto la capacità di ascoltare Dio avesse pensato e detto ma chi me l'ha fatto fare stavo così bene con le pecore di mio suocero è la prima cosa che Dio gli insegna è la prima cosa che Dio ti insegna non permettere ad altre voci di venirti a portare confusione perché la seconda voce ti confonde perché la seconda voce ti ruba il proposito perché la seconda voce ti porta lontano dalla presenza di Dio è la prima cosa che Dio gli insegna ad ascoltare la sua voce la seconda cosa a camminare nella sua presenza a camminare con lui tu hai bisogno di camminare con lui tu devi imparare a camminare con lui il luogo dove sei Dio gli disse è il luogo santo perché dove sono io tutto diventa santo tu non puoi vivere nel compromesso tu stai camminando con me ti gli dice il Signore io sono il re è il Dio della gloria è la terza cosa a vivere nel soprannaturale e gli dice Mosè non vivere per quello che vedi non vivere per quello che senti perché ci saranno momenti nella tua vita dove tu ti sentirai bene momenti dove ti sentirai in un straccio eterna io ti affido la fede io ti dono la fede in sottoforma di quel bastone e quando tu iniziare a parlare la parola della fede le circostanze incominceranno a cambiare davanti a te quando si è trovato di fronte passando le piaghe le dieci paghe i dieci mesi in Egitto di fronte al mare gridò a Dio e di Dio disse ma perché gridi a me usa quello che hai cosa gli ha insegnato a camminare nel soprannaturale prendi il bastone getto la terra divenne un serpente riprendilo divenne di nuovo un bastone io sono con te voglio portarti a vivere in un livello soprannaturale Dio compie un miracolo in quel roveto perché gli stava insegnando qualcosa a Mosè Dio compie un miracolo nella tua vita perché ti vuole insegnare qualcosa cosa gli ha voluto insegnare se posso cambiare la natura di un roveto che brucia ma non si consuma io posso cambiare anche la tua vita cos'è che è impossibile per Dio niente è impossibile quando gli avvenne questo incontro alla fine del deserto alla fine del tuo deserto c'è un incontro soprannaturale con la presenza di Dio e Dio gli disse adesso arriverà è arrivato il momento che Dio ti posso usare e Dio ti sta dicendo adesso è arrivato il momento che io ti posso usare che io ti posso usare che io ti voglio usare non rimanere più chiuso in te stesso non rimanere più chiuso nelle tue cose è arrivato il momento dove Dio ti vuole usare io non so se tutti siete pronti ma se non sei pronto Dio farà di tutto per attirare la tua attenzione e lo farà anche attraverso cose che ti renderanno pulneati e lo farà anche per attenzione la tua attenzione a la tua attenzione e lo farà anche che ti rende e lo farà anche che ti rende Grazie a tutti